Grazie a tutti. Grazie a tutti. Quindi faremo un dialogo virtuale con il professor Krugman, ma come sempre l'ultimo evento del festival è anche un'occasione un po' per discutere, per ricordare un po' i vari eventi che ci sono stati in questi giorni. Devo dire che c'è stata innanzitutto una presa d'atto di un problema, che poi era anche il motivo per cui si era stato scelto questo titolo, e cioè il fatto che dopo una crisi così lunga, pesante, le disuguaglianze, soprattutto quelle legate alla parte bassa della distribuzione dei redditi, la povertà, si sono accentuate e si poteva sperare che la mobilità sociale fosse in qualche modo in grado di assorbirle nel tempo. Devo dire che le persone che sono intervenute hanno guardato tante misure della mobilità sociale, che ricordo è definita come la probabilità di qualcuno che nella parte bassa, diciamo nel quintile, nel 20% più basso della distribuzione del reddito, possa ambire a migliorare la propria posizione relativa. Ecco, le varie misure che sono state proposte, gli studi che sono stati qui raccontati a Trento, hanno tutti documentato come purtroppo questa mobilità sociale langue è molto limitata, anche rivisitando dei miti come quello degli Stati Uniti, la terra, the land of opportunity, la terra delle opportunità. In realtà anche negli Stati Uniti è molto difficile riuscire ad avere in qualche modo un ascensore sociale a migliorare la propria posizione relativa. E questo è chiaramente un messaggio triste, difficile, dopo che una crisi così grave ha creato, ha acuito le distanze, ha peggiorato, proprio concentrandosi sulla parte bassa della distribuzione dei redditi, ha peggiorato la sorte di queste persone, sapere che sarà molto difficile per queste persone migliorare la propria condizione, chiaramente non è una cosa bella da sentire. Però, devo dire, una cosa invece che per certi aspetti è più rassicurante, ed è quella su cui credo noi dovremmo oggi discutere, è che credo tutti i relatori che sono intervenuti hanno sostenuto che non c'è niente di inevitabile in questo sviluppo, cioè non è qualcosa che sia in qualche modo legato intrinsecamente agli sviluppi, al funzionamento di un'economia di mercato. In realtà esistono dei correttivi, esistono delle misure che possono facilitare e rendere, e c'è una certa differenza tra paesi, ci sono dei paesi in cui la mobilità sociale è più alta che in altre, ci sono delle zone anche, delle città, delle regioni in cui la mobilità è più forte, e probabilmente guardando a fondo a queste realtà si possono individuare dei correttivi. Credo che questo è il messaggio che sia la lezione di Stiglitz, che quelle di Atkinson, Roderick, i vari relatori che ci sono succeduti hanno dato in modo molto chiaro. Allora, cosa si può fare? Credo che la riflessione sia incentrata su vari aspetti. Molti hanno parlato del sistema educativo. Il sistema educativo, credo per molti, è stato ritenuto essenziale per offrire maggiori opportunità a chi parte in posizioni di svantaggio. Un altro tema importante, che tra l'altro ha acquistato varie dimensioni, è quello dell'atteggiamento culturale, dell'apertura e anche degli stili, in questo senso, genitoriali. È un tema molto importante, su cui sia oggi il forum sull'uguaglianza dell'opportunità sia una bellissima lezione di Fabrizio Zilibotti, nei giorni scorsi hanno proprio molto insistito. Spesso i genitori non sono abbastanza attenti, fanno la pressione sbagliata nei confronti dei loro figli e non li spingono invece, e questo è in qualche modo ad affermarsi di più, ad avere indipendenza e questo ostacola talvolta la mobilità sociale. Quindi questi sono sicuramente dei ragionamenti importanti. Il limite di questi ragionamenti è che cambiare il sistema educativo, soprattutto avere delle persone che fanno tutto il percorso scolastico, escono dalla scuola e poi possono ambire a migliorare la propria posizione, richiede del tempo e anche cambiare la cultura, gli stili genitoriali, anche questo è qualcosa che richiede tempi lunghi. E noi stiamo uscendo da una crisi pesante e vorremmo invece che queste persone potessero migliorare la loro condizione in tempi più rapidi. Allora qui altre cose sono state proposte, molte di tipo redistributivo aumentare le tasse, di questo ne ha parlato Thomas Piketty, aumentare le tasse, ma anche Atkinson ne ha parlato, aumentare le tasse per le persone più ricche, cioè portare, avere per esempio una tassa sui redditi superiore al 65%, quindi aliquete molto alte. Si è parlato di tassare anche i patrimoni, anche qui Atkinson e Piketty hanno formulato proposte di questo tipo e poi anche intervenire maggiormente sui meccanismi ereditari, anche qui intervenire e ripristinare laddove sono state abolite delle tasse sulla ricchezza. Ecco, tutte queste misure che intervengono sulle tasse però aprono un problema di trade-off, che è poi il titolo della discussione di oggi, tra equità ed efficienza. Quando si aumentano le tasse, la pressione fiscale diventa più forte, si rischia un po' di deprimere la crescita, gli incentivi a investire, quelle cose che servirebbero tantissimo in un'Europa, non solo l'Italia, ma tutta l'Europa, che in questo momento fa davvero fatica a crescere. E poi difficilmente sono realizzabili, perché c'è molta mobilità dei capitali, quindi molti tenderebbero a sfuggire, sono difficilmente attuabili delle proposte di quel tipo. E come forse ricordava l'Economist, che dedica un articolo, l'ultimo numero proprio al Festival dell'Economia, è opportuno che gli economisti, tanto quanto i politici, si sforzino di fare delle proposte che sono attuabili e che non ragionino chiudendosi nella torre d'avorio. Allora vorrei che in questa discussione finale raccogliessimo un po' l'invito ad avere i piedi per terra e a pensare a delle forme per aumentare la mobilità sociale, che da una parte non richiedono tempi troppo lunghi, certamente l'istruzione e la cultura sono cose importanti, ma sappiamo che ci vorrà del tempo, e che al tempo stesso siano attuabili, cioè che non deprimano la crescita e non siano delle proposte che sono belle da raccontare, da discutere in ambienti, diciamo, accademici o in discussioni, ma che sono difficilmente... Ecco, c'è una cosa importante che mi sembra sia venuta fuori da alcuni studi, tra l'altro molti di voi hanno seguito una lecture bellissima di Nathan Henry, che ha studiato a fondo proprio i meccanismi di... che ha studiato i meccanismi di mobilità negli Stati Uniti e da questo studio veniva fuori come ci sia moltissima differenziazione tra zone rurali e zone urbane nella mobilità, cioè normalmente chi vive nelle grandi città ha maggiori possibilità di poter avere mobilità sociale, perché dentro la città ci sono molte più interazioni cui possono potenzialmente accedere anche persone che vengano da ceti più bassi. Chiaramente cambiano le condizioni, dipende, ci sono realtà urbane che permettono di più questo e altre realtà urbane che lo permettono di meno, soprattutto se abbiamo delle città in cui c'è molta segregazione, c'è molta disuguaglianza e ci sono alcune minoranze etniche o alcuni gruppi sociali che sono molto isolati, tutto questo non avviene. Ma se invece abbiamo delle realtà urbane relativamente coese, ecco qui c'è molta più possibilità di mobilità sociale. Allora io approfittando del fatto che abbiamo con noi Paul Krugman, che è stato uno dei pionieri della ricerca economica in temi di geografia economica, vorrei proprio chiedere a lui che cosa ne pensa, cioè se ritiene che l'urbanizzazione, entrare proprio nel rapporto tra urbanizzazione e disuguaglianze, cioè investire nel ridurre le disuguaglianze nelle grandi concentrazioni urbane, è un modo per da una parte avere più efficienza, perché certamente ci sono economie di agglomerazione, la crescita è molto concentrata in queste realtà urbane, ma dall'altro lato anche trovare quel consenso che serve, è perché credo che tutti quelli che vivono nelle città apprezzino il fatto che non ci siano troppe segregazioni, che non ci sia troppe disuguaglianze, anche perché vivere in città molto disuguali, segregate, equivale anche a vivere in una città in cui si vive male, in cui c'è violenza, ci sono delle disparità. Ecco, forse lì si può trovare il consenso per politiche che sostengono la mobilità sociale e che abbiano qualche probabilità di avere dei risultati nel breve periodo. Per cui la domanda che vorrei rivolgere a Paul Krugman, che spero ci stia ascoltando, perché dovrebbe essere collegato, è proprio questa. Do you think that it is possible to invest... Pensa sia possibile investire per ridurre le disuguaglianze nei centri urbani in modo tale da cogliere appieno il potenziale della crescita che si associa all'agglomerazione e dell'economia, nel contempo riducendo le disuguaglianze e sostenendo la mobilità sociale, quindi con un buon trade-off tra efficienza e equità. Mi sentite? Fantastico. Vi vedo anch'io, ne sono lieto. Scusatemi se non sono con voi fisicamente, però sapete che il mondo non è ancora piatto, per cui faccio del mio meglio. Innanzitutto, quando parliamo di disuguaglianze urbane, dobbiamo renderci conto che le cose non succedono da sole, in particolare, se consideriamo quello che può essere definito una città hub o, per esempio, New York, presenta moltissime disuguaglianze, però questo riflette anche il fatto che ci sono delle persone che guadagnano moltissimo e scelgono di vivere lì. Quindi non è proprio un esempio di una città a modello, perché New York è una città piuttosto particolare. Io credo che i luoghi in cui effettivamente si potrebbe agire a livello metropolitano di regione sono, innanzitutto, quelle che ci portano a chiederci una serie di quesiti. Per esempio, il valore dell'immobiliare ha un grosso ruolo nell'accumulo di ricchezza. Insomma, adesso il terreno urbano costa moltissimo, non si parla più di terra agricola. Poi c'è anche una questione di numeri. Io credo che effettivamente un quarto della ricchezza americana sia quella dei terreni urbani. Quindi quando si pensa a tasse, allora si potrebbe imporre delle tasse lì per ridurre le disuguaglianze. Poi molte sono le prove che evidenziano che anche a livello locale si possono adottare delle politiche per ridurre le disuguaglianze di reddito. Per esempio, si potrebbero garantire dei salari minimi relativamente a una singola città o una certa regione e questo potrebbe avere un impatto senza generare disoccupazione. Insomma, e quindi potrebbe funzionare a livello locale. Potremmo... Ecco, le città potrebbero essere un laboratorio di esperimenti. Si potrebbe a volte pensare che solo le soluzioni globali funzionano, ma non è vero. Io credo che Piketty si spenga troppo in là dicendo che ci vuole una tazza sul patrimonio a livello mondiale. Non è necessariamente così. è possibile magari lavorare a livello della singola città o della singola regione per fare dei passi in avanti per ridurre queste disuguaglianze. Un tema importante che lei ha sollevato è proprio anche il fatto che tra diverse città ci sono delle differenze nei prezzi perché chiaramente il prezzo delle case spinge un po' tutti gli altri prezzi. Tra l'altro questa è anche una questione dal punto di vista descrittivo. I dati che spesso si guardano sulle disuguaglianze non tengono conto delle differenze nel costo della vita tra le diverse aree geografiche. Forse se noi ne tenessimo conto avremmo una realtà un po' diversa sulla vera natura delle disuguaglianze e sull'ampiezza delle disuguaglianze. Lei cosa ne pensa? Measuring properly differences across areas. Sì, credo che sia verissimo e io credo che si debba considerare anche l'altro lato della medaglia. Ci sono differenze nel costo della vita questo è evidente però non sono così marcate come l'uomo della strada ritiene. Se facciamo una domanda sul costo della vita non ho i dati americani però ci sono delle notevole differenze che sono proprio dovute al costo dei terreni o delle case più delle case che non dei terreni. però diciamo che questa è solo una parte della storia ci sono anche altri fattori in gioco ci sono grosse città in cui è più costoso vivere e anche trovare una casa però diciamo che magari non serve l'automobile e quindi spostarsi costa meno magari alcuni beni costano meno oppure c'è un'offerta maggiore e quindi le cose sono molto diverse però io nel delineare un quadro d'insieme credo che non ci siano molte novità uno pensa che uno che vive in città guadagna molto quindi ha lo stesso potere d'acquisto non è affatto vero c'è un'altra cosa importante ci sono delle differenze nel costo della vita questo è vero che però non sono tutte poi così necessarie diciamo insomma magari le case costano moltissimo nelle grosse città ma magari sono la conseguenza del fatto che non si danno molte concessioni edilizie quindi le case sono poche negli Stati Uniti c'è una cosa bizzarra se vediamo la mobilità interregionale del lavoro questa va nella direzione sbagliata va dalle regioni dove si guadagna di più a quelle dove si guadagna di meno e questo è dovuto al costo degli alloggi quindi ci sono persone che si spostano in zone dove guadagnano meno perché le case costano meno e quindi ovviamente bisogna migliorare l'efficienza la casa e per certi aspetti anche tassare di più forse la proprietà immobiliare tra l'altro in Italia è stata una cosa molto impopolare tassare le case però degli studi che hanno guardato agli effetti del ripristino del tasse sulla casa hanno dimostrato che è stata una delle tasse che ha avuto le migliori proprietà distributive cioè è riuscita di più in qualche modo a intervenire e a ridurre le disuguaglianze quindi questo credo che sia un tema di riflessione molto molto importante un'altra politica di cui si è parlato molto e tra l'altro su questo anche Etienne Wasmer parlando delle tesi di Piketty ha molto sottolineato il fatto che molto di quello che Piketty osserve è legato proprio alla proprietà immobiliare al valore delle case quindi il problema della casa effettivamente è un problema molto 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 rilevante lei quindi pensa che si può fare di più nelle tasse sulle proprietà immobiliari anche per ridistribuire il reddito per ridurre le disuguaglianze beh innanzitutto la prima cosa da dire sulle disuguaglianze è che è sbagliato pensare che sia una questione monodimensionale cioè che ci sia solo una causa e l'analisi di Piketty ci porta in questa spirale se vogliamo di concentrazione della ricchezza questa sicuramente è una bella storia ma non è tutta la storia e poi dobbiamo riconoscere che siamo piuttosto incerti circa il ruolo delle diverse cause il che significa che dovremmo muoverci su diverse strade per affrontare la disuguaglianza Atkinson per esempio ha fatto 15 proposte per ridurre la disuguaglianza e magari sono poche perché dovremmo muoverci ancora su più fronti per esempio dovremmo cercare di provare varie strade adesso non so elencarle tutte ma sono molte ora la casa il valore della casa non è uguale al valore della terra e la casa è una parte importante del capitale dunque è una forma di capitale ma poi c'è un altro pezzetto da aggiungere che è il prezzo dei terreni e questo è un reddito non guadagnato che deriva per esempio dalla densità di popolazione dalle concessioni eccetera il punto che voglio sottolineare è che dipende a seconda dei paesi ma ci sono delle tasse sulle case sulle terre e in vari paesi ci sono stati dei sistemi fiscali piuttosto preferenziali e la rendita è deducibile eccetera e la ricchezza è molto diversamente distribuita e questo significa che spesso ci sono dei privilegi per alcune persone e magari questa potrebbe essere la proposta numero 16 per Tony Atkinson potremmo dire che dovremmo cercare di allontanarci da questo sistema ci vuole tempo ovviamente molte persone della classe media media alta hanno molto del capitale racchiuso nell'immobiliare e una forte tassa sull'immobiliare è politicamente impossibile ma dobbiamo avere un orizzonte lontano e fare questo tipo di investimento questo tipo di proposta serio del fatto che ci sono persone che hanno magari anche proprietà perché la proprietà immobiliare è molto diffusa però hanno poca liquidità quindi questo è uno dei problemi più seri che ha qualsiasi intervento che proceda alla tassazione delle case mentre invece una liberalizzazione maggiore magari invece del mercato abitativo avrebbe degli effetti simili senza dover creare necessariamente immediatamente dei problemi di liquidità alle persone che sono proprietari di case anche questo naturalmente ridorrebbe il valore delle case esistenti e una delle ragioni per cui è difficile è che ci sono delle restrizioni alla costruzione di case che la gente non vuole che vicino alle loro case si costruiscano altre case e questo per difendere il valore delle proprie abitazioni ma credo che questo possa essere risolto ma dovremmo essere chiari di cosa stiamo parlando negli Stati Uniti almeno le cose sono abbastanza chiare cioè nelle zone in cui la casa è molto costosa c'è la possibilità di condomini per esempio di avere questi insediamenti con più appartamenti e si parla anche di crescere al di fuori di una città per esempio Manhattan potrebbe crescere ancora magari non in larghezza ma in altezza ci sono delle zone che sono densamente popolate ma questo non è del tutto vero ci sono tantissime possibilità non è che le case debbano essere così costose come sono adesso ci vogliono delle restrizioni liberalizzazione totale non va bene ovviamente per tante ragioni ma delle politiche di sviluppo urbanistico possono essere utili beh se devo essere sincero le politiche urbanistiche non sono in cima ma i miei pensieri io comincerei dal potere contrattuale dei lavoratori oppure tasse più alte sui capitali e poi scenderei nella lista comunque mi rendo conto che anche la politica abitativa può essere parte del portafoglio perché ci sembra una prospettiva molto interessante si possono fare delle cose anche un po' mischiando le carte anche qui diversi interventi qui ci spiegavano che per esempio programmi come Moving to Opportunity a Chicago e in altre città degli Stati Uniti avevano ridotto in qualche modo la segregazione avevano portato delle famiglie che altrimenti avrebbero avuto soprattutto dei giovani ad avere maggiore opportunità secondo lei anche questa è una strada che andrebbe maggiormente perseguita superare la segregazione abitativa permettere anche a persone di ceti popolari di poter vivere in quartieri cambiare di cambiare i quartieri in cui risiedono fare appunto operazioni di questo tipo secondo lei è un'operazione che ha senso che ha significato beh fa parte della politica sicuramente i programmi che rendono accessibili le case in quartieri che sono costosi beh sono utili anche se suscitano opposizione da parte di persone molto influenti ma possono aiutare questa ancora una volta è una prospettiva americana quella che vi do io ma pensiamo ai trasporti la possibilità di trasportare le persone senza che debbano utilizzare l'auto questo può fare la differenza e c'è un lavoro molto interessante non so se ne avete parlato al festival di Roy Shetty e collaboratori sulla mobilità sociale che indica che delle aree metropolitane dove c'è la possibilità di trasporti facili sono incubatori di mobilità sociali e permettono per esempio pensiamo ad Atlanta ad Atlanta c'è una segregazione sociale segregazione di classe e anche segregazione razziale e non c'è la possibilità di andare a lavorare in altri distretti e quello è l'esempio da non seguire noi parliamo sempre di tasse ridistribuzione poi sindacati reddito minimo e il trasporto pubblico invece come strumento di riduzione delle disuguaglianze non è sempre discusso e dibattuto ma è molto importante gli studi di Raicetti e di Nathan Andrew di cui abbiamo parlato anche al festival ma credo che Daniel adesso voglia porle delle domande abbiamo finora parlato delle unità più piccole delle città all'interno delle nazioni soprattutto dell'ineguaglianza e della poca mobilità di nuovo all'interno dei paesi ma Paul è stato pieno anche dell'economia geografica per spiegare un po' come l'attività si sposta e si distribuisce attraverso le nazioni dunque la domanda che voglio farle è la seguente se guardiamo le disuguaglianze in Europa attraverso le nazioni e non all'interno delle nazioni e se vediamo che cosa è successo diciamo negli ultimi vent'anni all'interno dell'Unione Europea vediamo che ci sono dei processi di convergenza fino al 2006 2007 e poi una divergenza grave con l'aumento delle disuguaglianze dietro di questo ovviamente c'è la crisi ma mi chiedo se non si possa vedere qualcos'altro dietro cioè un aumento della concentrazione delle attività industriali al cuore dell'Europa cioè l'Europa nord-occidentale e la Germania ovviamente perché la periferia è stata progressivamente deindustrializzata è così e allora l'Europa se è così è destinata a diventare sempre più diseguale perché le attività ad alto valore aggiunto si concentreranno al cuore al centro dell'Europa rendendo la vita ancora più difficile ai paesi che stanno in periferia la prima cosa da dire è questa quando c'è una crisi macroeconomica così grave come abbiamo avuto è facile attribuire erroneamente oppure prendere delle cose che sono il risultato della crisi e pensare che invece rappresentano delle tendenze di lungo periodo non credo che ci siano delle evidenze solide e robuste che l'impoverimento della periferia europea sia risultato di forze di agglomerazione che portano l'industria verso il centro verso il nord ovest dell'Europa forse è vero ma mi sembra una conclusione prematura e sarebbe interessante magari studiarla però non mi sembra del tutto probabile ecco trovo estremamente utile pensare in termini di distribuzione del reddito globale il nuovo collega Brannen che sta facendo degli ottimi lavori sulla ridistribuzione del reddito dice che se pensiamo al mondo nel suo insieme vediamo che ci sono due luoghi di distribuzione dove il reddito è cresciuto velocemente uno è intorno al sessantesimo settantesimo percentile vale a dire la classe media cinese e l'altro è l'altro un per cento globale cioè i ricchissimi gli strami miliardari ora dovremmo chiederci quali sono i problemi costanti delle parti più povere d'Europa perché sono così povere forse sono alla mercè della competizione pensiamo alla classe media cinese che compete con il settore della moda italiana e i paesi emergenti stanno concorrendo stanno facendo la competizione alle parti più povere dell'Europa e questo è un problema e lo vediamo anche negli Stati Uniti i luoghi che sono stati più colpiti dalla concorrenza di paesi a basso reddito tendono ad essere le zone negli Stati Uniti dove i redditi sono più bassi ma ancora una volta vi dico che gli Stati Uniti hanno un sistema nazionale e ci sono delle politiche redistributive e compensative ma sapete per quanto concerne l'Europa quello che non ci dovrebbe fare disperare è che è possibile avere una ripresa europea e poi vedere e capire che cosa può succedere all'industria nell'Europa meridionale sì lei ha anticipato il problema che volevo proporle la deindustrializzazione della periferia va avanti da tanto tempo anche durante il periodo del boom economico e questo forse è una cosa che andava avanti da tanto tempo e che poi è stata sovrastata dalla crisi posso dire una cosa credo che ci siano dei parallelismi interessanti una delle cose che abbiamo notato in un certo senso pensiamo al Messico che è nella NAFTA e che ha più o meno la stessa posizione ed è stato influenzato negativamente dalla concorrenza della Cina ma adesso la mutevole struttura dell'economia globale sta andando nell'altra direzione apprezzando i vantaggi della prossimità e della buona logistica e adesso si parla infatti del momento messicano nell'industria e magari si vedrà anche il momento greco il momento portoghese beh è difficile però farlo quando ci sono politiche di austerità così catastrofiche dunque quello che lei dice è che via via che i cinesi avanzano velocemente lasciano spazio ai portoghesi e ai greci d'Europa che sono abbastanza vicini al fulcro industriale per partecipare alla ripresa beh non è facile i redditi cinesi stanno accelerando stanno crescendo molto velocemente ma ancora una volta la concorrenza non è così intensa come era in passato e poi sembra o meglio per come la vedo io molte aziende molte industrie hanno scoperto che si sono globalizzate troppo velocemente troppo remotamente anche se hanno ridotto i costi di lavoro facendo l'outsourcing di molte attività nei paesi in via di sviluppo ma ciò nonostante il costo della distanza è costato costava niente spedire e costa niente spedire da Shanghai ma ci vuole un po' di tempo e non è così facile rispondere a questi processi la comunicazione non è così veloce non so se volete parlare con un manager e discutere di un problema e stare a Shanghai è difficile insomma e lo stesso vale per l'Europa alcune delle forze che hanno apportato alle ricollocazioni al ritorno delle aziende negli Stati Uniti dovrebbero essere anche presenti in Europa secondo me e credo che l'Europa dovrebbe essere più consapevole di queste possibilità invece di fare queste politiche di austerità dunque la periferia dovrebbe partecipare a questa ricollocazione se ho capito bene bisognerebbe cominciare con i paesi a più basso reddito e la Cina è il più grosso concorrente per le aziende a media tecnologia questo significa che l'Italia potrebbe proprio ricadere in questa categoria dove la concorrenza cinese è la più forte chi lo sa chi lo sa beh forse no vi racconto una cosa una delle industrie che ancora tengono è quella della moda dell'abbigliamento l'Italia mantiene ancora una significativa presenza in questo comparto negli Stati Uniti abbiamo visto una rinascita dell'industria dell'abbigliamento della moda uno dei pochi gruppi di qualifiche in cui c'è un aumento è proprio quello degli impiegati qualificati a lavorare nelle aziende di abbigliamento nelle aziende della moda ovviamente in uno spazio politico migliore magari l'Italia per una volta si troverà nel posto giusto quando la linea e la distanza si accorcerà ma tutto questo ancora una volta è stravolto dalle politiche europee sì in Italia si è parlato molto di questo fattore agglomerativo si parla di distretti in Italia ci sono gli distretti tessili della moda poi distretti di altro tipo che richiedono molte competenze e molte qualifiche locali ma cosa può fare un governo cosa può fare il governo dovrebbe incoraggiare questi distretti oppure dovrebbe favorire la diffusione delle attività manifetturiere in tutto il territorio ci sono alcune evidenze che la promozione dei cluster sia una cosa positiva moderatamente però perché non si possono pianificare queste cose dal centro ma sicuramente si potrebbero facilitarli dando formazione non parlo di alta formazione di università ma anche formazione professionale questa può essere davvero utile non vogliamo fare miracoli ma è davvero comunque che in un ampio senso gli ultimi 25 anni nell'Europa del sud e in Italia anche hanno visto un declino se volete di questi paesi e se mi sentite adesso ecco allora vi dico una cosa diversa visto che non avete sentito quello che ho detto prima no come dicevo se prendiamo gli ultimi 25 anni e i cambiamenti che ci sono stati l'Europa meridionale si è trovata in un posto sfortunato non geograficamente ma un posto sfortunato nella redistribuzione globale del reddito è stata proprio nel posto dove in generale c'è stata una riduzione del reddito ma adesso le cose stanno cambiando secondo me e la promozione dei cluster industriali beh può essere utile i governi non possono pianificare tutto questo centralmente ma possono aiutare quando vedono che si sta sviluppando un cluster sì lo so che avete dei distretti industriali famosi ma guardate anche la Cina la Cina è un paese enorme ma con delle industrie molto organizzate c'è la città dell'abbigliamento la città dei microchip e così via e poi la forza può essere quella dell'export pensate ai semiconduttori l'intrattenimento l'industria del cinema naturalmente io ho un interesse personale nel promuovere la geografia ma la geografia è sicuramente importante indubbiamente i distretti manufatturieri sono noti in Italia ecco la concorrenza da parte della Cina giustamente lei ha detto che i costi del lavoro stanno aumentando in Cina non solo per i salari ma anche per le tutele sociali prima parlava del fatto che le piacerebbe avere un maggior potere di contrattazione per i lavoratori però in un ambiente globalizzato nel quale c'è la concorrenza di paesi a basso costo come si può aumentare il potere contrattuale cioè in che termini salari minimi a cosa pensa perché sembra che questa sia una politica fondamentale nelle sue parole innanzitutto la globalizzazione diciamo che tre quarti fattori nell'economia non è contrattabile possiamo parlare di manufatturiero però siamo fondamentalmente un'economia di servizi e quindi i servizi contrattabili sono molto pochi insomma dalla sanità e commercio a dettaglio sono servizi non tradable quindi diciamo è chiaro che il commercio a dettaglio non lo sposteremo in Cina ecco questi servizi non tradable vengono forniti di solito da grossissime aziende quindi non diciamo sono degli oligopoli fondamentalmente e quindi la questione abbiamo perso il collegamento ancora una volta ci provo di nuovo stavo dicendo qualcosa sulle concentrazioni poi è sparito allora walmart per esempio usiamolo come esempio può sindacali si può sindacalizzare certo ma nessuno ce lo impedisce però questa sarebbe una cosa distruttiva porterebbe a molti licenziamenti ma ci sono molte evidenze che dimostrano che pagare di più un lavoratore in un certo settore come quello garantisce degli incrementi di efficienza che contro bilanciano in parte il costo del lavoro magari non al 100% insomma certo c'è Cosco e walmart sono due colossi negli Stati Uniti e quindi sembra abbastanza chiaro che con un forte movimento sindacale in effetti in effetti si possono ottenere dei salari più elevati nel settore del dettaglio negli use quindi i servizi non tradable forniti da grosse aziende che vengono sindacalizzate ecco potrebbe garantire una maggiore efficienza senza aumentare troppo i costi io credo sulla scorta di studi fatti piccoli cambiamenti nell'ambiente istituzionale potrebbero dare notevoli migliorie al lavoratore tradizionale ma si può strutturare la sindacalizzazione abbiamo visto negli USA e anche in Europa un grosso calo dell'attività sindacale un calo della contrattazione collettiva eccetera quindi non è facile da un punto di vista politico sostenere dei forti movimenti sindacali sarebbe facile da un punto di vista tecnico intendo dire cioè una normativa che rende più facile fare delle elezioni per esempio per far votare i lavoratori per farli partecipare al sindacato questo verrebbe bloccato dalla politica ma tecnicamente non sarebbe difficile farlo in un contesto americano sappiamo anche che la gran parte dei motivi del calo del sindacato negli USA è proprio la vanificazione degli sforzi fatti anche se può sembrare orribile è quasi reso illegale il lavoro del sindacato quindi molti servizi non godevano dei sindacati negli USA proprio perché negli ultimi 30 anni le aziende sapevano di poter infringere ogni tanto la legge sindacale e quindi non venivano puniti però le cose variano da paese a paese ecco se fosse più facile organizzare i sindacati questo risolverebbe la disuguaglianza probabilmente no però favorirebbe faciliterebbe le cose come si diceva all'inizio diciamo che la disuguaglianza non è proprio fuori dal nostro controllo la disuguaglianza come dice Stiglitz a volte è una questione di scelte ecco il fatto che l'economia sia globale che gli stati non possano fare qualcosa è sbagliato quindi non c'è alcun motivo per cui non potremmo aumentare i salari dei lavoratori dei servizi beh questa è una buona notizia stavo pensando al tedesco qui fra noi quando si parlava di aumento dei salari eccetera qui naturalmente la crisi dell'eurozona si dice è dovuta a un problema dei bilanci dei pagamenti un problema di competitività della Grecia dell'Europa meridionale quindi un aumento dei salari non sarebbe positivo in questo contesto non so cosa pensa Daniel ecco ci dice si può fare qualcosa contro la disuguaglianza stavo pensando che sicuramente è vero come principio generale però da un punto di vista della disuguaglianza per tutte le nazioni cioè si può agire in una nazione ma non in tutte l'esperienza tedesca è interessante perché fino a poco tempo fa la Germania aveva un vantaggio sugli altri grazie alla politica di moderazione dei salari non imposta dal governo ma effettivamente sostenuta anche dai sindacati questo per creare più posti di lavoro in Germania e molti hanno pensato che questa strategia abbia avuto successo ancora sempre in Germania la si pensa esattamente al contrario si dice che la moderazione adesso è sufficiente siamo a piena occupazione abbiamo il salario minimo e quindi abbiamo già un guadagno in termini di efficienza quindi pensando alla disuguaglianza a livello internazionale può esistere una politica salariale da adottare da parte dei singoli stati ma ovviamente tutto ha un limite io non dirò certo che la Spagna debba aumentare molto i salari per guadagnare competitività nel settore manufatturiero non lo dirò a volte così le logiche del passato sono valide a volte no penso che ci sia un problema le politiche cui faccio riferimento sono intranazionali e indonazionali poi ovviamente il potere contrattuale può essere utilizzato per modificare la distribuzione tra i diversi paesi diciamo questo dipende dai rapporti di mercato da trasferimenti su vasta scala che non succederanno quindi non si può far molto da questo punto di vista poi a livello internazionale è questione di creare un'atmosfera nella quale i paesi possano crescere ed è per questo che per la maggior parte dei casi io sono un sostenitore del libero scambio non un purista ma diciamo vogliamo mantenere aperti i mercati anche perché i paesi relativamente poveri possono avere accesso ai mercati mondiali se mi si chiede come ridurre le disuguaglianze di reddito negli Stati Uniti o in un singolo paese europeo io penso che ci siano anche delle buone idee magari non soluzioni ma idee se poi mi si chiede come conseguire una convergenza di reddito tra Bulgaria e Germania la risposta non saprei proprio sicuramente qualche idea ce l'ha su come ridurre le disuguaglianze le disparità in Europa perché ovviamente ci sono differenze di tassi di disoccupazione in Italia e scusate in Europa siamo veramente al massimo di disoccupazione per cui non so le politiche fiscali il loro coordinamento la questione della condizionalità che è stata utilizzata dalle autorità sovranazionali proprio al pieno della crisi è stato un errore o no o ha imposto eccessivi ritocchi nelle politiche dei paesi dell'Europa meridione sì in effetti i ritocchi fiscali sono stati un po' eccessivi si è parlato di problema fiscale ma è sbagliato diciamo che è un problema della bilancia dei pagamenti in Europa poi la soluzione di tutto questo dovrà prevedere un incremento dei salari non solo in Germania e quando dico questo tra l'altro sapete c'era una certa crisi in Germania alla fine degli anni 90 la Germania è riuscita ad attuare una buona ripresa con la politica della moderazione dei salari anche se l'inflazione era piuttosto elevata nel sud dell'Europa e la risa competitiva la cosa importante è capire che la Germania adesso ha un tasso di inflazione molto basso e effettivamente spera che il sud riesca a raggiungere una ripresa quindi si tratta di un ambiente piuttosto selvaggio difficile diciamo che ci sono una serie di condizioni piuttosto improbabili che sono state imposte per cui io mi auguro che se ne esca a volte a volte quando si parla con il cittadino tedesco o il politico dicono noi siamo prosperiamo perché abbiamo un'ottima eccedenza in bilancia commerciale speriamo che ce l'abbiano tutti ma è un po' difficile quindi non c'è affatto una cospirazione britannica contro di loro comunque sapete il momento è difficile siamo qua che teniamo gli occhi sul sud dell'Europa con sguardo preoccupato certo non è possibile che tutti siano in eccedenza insomma a tale proposito la decisione della Germania di introdurre il salario minimo che tra l'altro è piuttosto elevato diciamo che 10 euro effettivamente sì ecco se mi chiedete cosa può fare la Germania per contribuire a risolvere la crisi europea effettivamente sta facendo dei buoni passi è positivo vedere che è successo qualcosa che non sia solo il risultato della buona mano di Mario Draghi Daniel è un buon passo questo sì io ho un passaporto tedesco mi guardate tutte insomma però vivo a Bruxelles lo dico sempre apertamente e ho assunto il punto di vista di Bruxelles quindi da un punto di vista europeo ebbene è interessante la commissione dice che bisogna aumentare la competitività e ridurre i salari adesso arriva la Germania e fa l'esatto posto per cui Bruxelles si è ammutolita naturalmente sono contenti che la Germania lo faccia però diciamo una cosa che possono fare i singoli governi agire però la domanda è perché non aumentano di più i salari tedeschi considerando che siamo vicini alla piena occupazione c'è qualcosa che non funziona con i sindacati tedeschi e cos'è che rende il mercato del lavoro tedesco così lento in termini di incremento di salari praticamente non è cambiato nulla da quando il sindacato è più attivo o sono cambiati altri parametri ecco non so se sono competenti in materia però penso che quando c'è una crisi economica come quella che è avvenuta tutti stanno molto attenti sono molto cauti anche se non sono colpiti uno si chiede ma perché la Germania ha attuato una certa austerità fiscale non certo come gli altri paesi eccetera però la Germania diciamo ha dotato certe misure di politica fiscale che sembrano piuttosto bizzarre nel contesto e diciamo praticamente il costo di credito quasi pari a zero nessuna pressione quindi perché avrebbe dovuto farlo ma io credo che sia comprensibile perché si sono guardati attorno hanno visto la crisi ovunque e quindi hanno detto seriamo anche noi la cinghia e certo anche i sindacati agiscono secondo la stessa logica magari si vedono catastrofi ovunque nei vicini e a questo punto uno attua un atteggiamento cauto una certa cautela insomma una crisi è uno shock per tutti per cui credo che ci siano molti timori addirittura delle paranoie ovunque proprio perché abbiamo avuto la peggiore crisi economica dal 29 e non ne stiamo uscendo il che significa che bisogna fare appello ad alcuni fattori non economici per poter spiegare alcuni dei grossi problemi che abbiamo nell'avere una buona ripresa europea ma non so quanto non economici però possiamo magari tornare al punto che stavo cercando di spiegare prima cioè la questione dei salari che diciamo c'è una mano invisibile che ha un ruolo piuttosto limitato nel stabilire i salari ecco diciamo forse sono così i principi sociali che governano questo ci sono sempre più prove che dimostrano che i salari non sono l'esito di domande offerta insomma è troppo semplicistico insomma ci sono norme percezioni aspettative potere contrattuale eccetera che influenzano i salari e effettivamente questo spiega anche perché chi ha fissato i salari tedeschi erano preoccupati giustamente dalla crisi europea e quindi si sono moderati abbiamo parlato del commercio delle importazioni eccetera non abbiamo parlato molto di immigrazione Dani Roderick nella sua presentazione ha detto che voi avete tanta immigrazione e che questo è un modo migliore per affrontare la mobilità sociale soprattutto a livello globale perché dà l'opportunità a queste persone che vivono in paesi relativamente poveri di avere appunto delle chance qual è il rapporto tra immigrazione e questa pressione di cui parlavamo se non si pensa che l'immigrazione internazionale sia un argomento piuttosto tormentoso allora c'è qualcosa che non va in noi perché effettivamente la prima cosa da dire è sì se vogliamo migliorare la vita delle persone dei paesi poveri allora permettiamo che vengano in un paese ricco e dal punto di vista cosmopolitico l'immigrazione internazionale può essere una forza di miglioramento personale se uno è americano sono ci sono alte probabilità che uno abbia una storta di immigrazione io sto meglio di quanto stavano i miei nonni sotto lo zar ecco questa è la prima cosa da dire poi secondariamente noi vogliamo avere anche giustizia sociale nei paesi mi sentite mi sentite sì dunque noi vogliamo avere giustizia sociale in quei paesi dobbiamo avere anche una previdenza sociale ma ci sono dei problemi ci vogliono delle limitazioni all'immigrazione se vogliamo avere le cose che abbiamo c'è un compromesso a cui scendere e poi c'è un problema in Europa che cominciamo a intravedere cominciamo a vedere che la libera circolazione del lavoro senza l'integrazione fiscale crea la possibilità di spirali verso il basso e penso a un paese il Portogallo dove c'è un'economia depressa e molti giovani che se ne vanno ma mi chiedo chi continuerà a pagare le tasse per sostenere e pagare le pensioni ecco questo è un altro problema e poi complessivamente quello che vogliamo mantenere è una certa possibilità di immigrazione perché ci arricchisce tutti cambia le condizioni umane e io sono una persona che ama la diversità etnica e culturale personalmente io stesso sono figlio nipote di immigrati e dunque sono favorevole all'immigrazione perché questo permette di avere una società più progressiva più progressista devo dire che l'immigrazione all'interno dell'Europa è stata una storia di successo ci sono state preoccupazioni circa gli effetti sui salari ma alla fine gli immigrati si sono insediati si sono integrati e è stata un po' come l'immigrazione negli Stati Uniti con piena integrazione e convergenza totale con il paese ospite ma il grosso problema che abbiamo adesso è che abbiamo anche noi un Messico che non è collegato con noi tramite la terra ma tramite il mare e la situazione è molto peggiore che non in Messico o in America centrale e il problema è che prima di tutto la gente là è disperata e vuole venire da noi e poi noi non abbiamo le strutture per integrare tutte queste persone per renderli produttivi e per dargli un salario sì beh ci deve essere anche una componente umanitaria mi rendo conto ma ci vogliono anche delle misure non ho una risposta da darvi adesso sono nel Regno Unito e sono obbligato a mantenere la visita entro un mese perché l'opinione pubblica britannica è molto arrabbiata per quello che percepisce come la durata dei soggiorni degli immigrati dell'Europa dell'Est e ancora una volta non si può fare niente perché sono regole e allora se la prendono con gli americani beh lei è benvenuto qui non c'è alcun dubbio ma mi faccio aggiungere che sono in parte in disaccordo con Daniel perché penso che l'immigrazione europea non è stata del tutto una storia di successo perché ci sono delle forze centrifughe e poi anche all'interno della UE ci sono tutti questi tentativi di reintrodurre delle restrizioni la mobilità dei lavoratori all'interno della UE dunque dovremo vedere come va da questa discussione ho ancora una volta capito che sarebbe fantastico averla con noi l'anno prossimo perché ci saranno più opportunità di interazione se viene qua e credo che molte delle questioni che abbiamo sollevato oggi potrebbero essere la base di discussioni davvero fruttuose qui a Trento speriamo che lei l'anno prossimo possa essere con noi qui a Trento al Festival dell'Economia grazie per essere stato con noi oggi grazie a questo punto vorrei chiamare sul palco il presidente della provincia di Trento e poi il comitato editoriale del Festival cioè Enzo Cipolletta Giuseppe La Terza Paolo Collini non c'è non sapevo e poi vorrei chiamare anche Andrea l'assessore in rappresentanza del comune di Trento Andrea Robol avete un microfono forse avete bisogno di un microfono ecco tocca a me tocca solo a me niente la parola naturalmente è grazie grazie parto però dai protagonisti principali del festival il nostro pubblico tutti coloro che hanno deciso di venire a Trento a passare delle giornate meravigliose con noi e in uno stile e con una qualità assolutamente ormai tradizionale perché sono dieci anni che il festival ci propone davvero dei momenti molto interessanti come lo è stato anche quest'ultimo un ringraziamento naturalmente a tutto il comitato a tutte le persone che hanno reso possibile tutto questo non le cito perché sicuramente dimenticherei qualcuno e se permettete vorrei chiudere anche così con una sensazione mia personale come presidente del Trentino come presidente di un territorio piccolo ma anche orgoglioso che attraverso anche questo festival e le opportunità che questo festival gli ha dato ha sperimentato in questi anni anche qualche applicazione di fattori di mobilità sociale come quelli di cui abbiamo parlato in questi giorni certamente abbiamo sperimentato il reddito di cittadinanza è nato al festival dell'economia di Trento il festival del reddito di cittadinanza del Trentino stiamo investendo molto sull'istruzione sulla scuola sulla formazione io oltre che presidente della provincia ahimè sono anche assessore all'istruzione ma probabilmente dentro questa celta c'è proprio un indirizzo ben preciso che sono molto contento che abbia trovato conferma in ciò che è emerso in questo festival stiamo lavorando molto anche per cercare di ridurre le distanze all'interno del nostro territorio e metterlo in collegamento migliore all'interno ma anche soprattutto sull'esterno quindi investimenti sulla banda larga però la sfida vera che forse vale per il Trentino ma vale per l'Italia e forse anche per l'Europa è quella di sapere completare il percorso che sta nella prima parola probabilmente abbiamo parlato tanto di quei fattori che giustamente garantiscono quella protezione di livello sociale che devono dare opportunità a tutti però mobilità vuol dire anche avere l'ambizione la voglia di sentirsi protagonisti del proprio futuro essere orientati alla competitività alla ripresa al voler uscire davvero da questa crisi e quindi magari chiudiamo questo festival con questo auspicio che ciascuno di noi ci metta anche quel pezzettino di proprio perché naturalmente è importante sperimentare strumenti ma poi ci vogliono le persone ci vuole il capitale umano che fa la differenza in questi casi auguri a tutti grazie 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 a voi fare bene il proprio mister non diventare semplicemente l'Europa disuguale mafia significa anche impoverimento un treno che parte una scuola che apre perché dovrei preoccupare capiscono che la mafia è tanto più forte quando una parte come si fa la scienza ha senso che i contratti insieme sono né buoni né